Ne approfitto per ricordare a tutti che potete in basso a destra dove c'è il segno più invitare, pingare nel termine di Clubhouse anche le persone che conoscete con cui siete connesse e collegati qui per invitarle a partecipare e ad ascoltare la nostra room del venerdì mattina. 8 e un quarto, be safe, benvenuti, direi che partiamo, diamo il benvenuto come avete già sentito a Giada e De Leonora e permettetemi di ringraziarle prima ancora di iniziare perché ci riflettevo stamattina, ci stanno aiutando a fare una cosa secondo me molto speciale Francesco, a far capire che be safe è molto di più di sicurezza sul lavoro uguale regole, leggi, documenti di valutazione dei rischi, tutta quella roba lì. Ma è una cosa molto più ampia, be safe vuol dire sicurezza a 360 gradi con l'uomo al centro, che dici? Assolutamente vero, noi dobbiamo costruire un ambiente di benessere dove il benessere parte evidentemente dalla base, dalla famosa piramide di Maslow, cioè la sicurezza di chi sta dentro, ma se si fermassimo solamente questo aspetto saremo un po' trogloditi, dobbiamo puntare a fare in modo che le persone all'interno delle nostre aziende si sentano non solo sicure, ma anche coccolate, perché allora in questo modo l'azienda diventerà veramente la nostra seconda famiglia, non solo per le ore in cui stiamo insieme, ma proprio per la qualità della vita professionale che abbiamo. E noi dobbiamo aiutarci, e qui prendo appunto spunto da Mirta, dobbiamo aiutarci tutti a creare questi valori, questa cultura di cui noi abbiamo bisogno. È veramente deprimente leggere sui giornali gli infortuni sul lavoro, le morte sul lavoro, leggevo ieri che siamo già arrivati a 105 morti sul lavoro e siamo appena ai primi di febbraio. Ecco, la sicurezza non deve essere solo questo, non può essere solo questo, dobbiamo evolvere come comunità, dobbiamo evolvere e fare in modo appunto che il lavoro non sia solo un diritto, ma sia un qualcosa di più, sia la modalità con cui noi viviamo bene, le nostre otto ore al giorno, abbiamo soddisfazioni e riusciamo a creare qualcosa di positivo, come stiamo facendo in questa nostra chat. Infatti il ringraziamento a Mirta per chi non ci avesse seguito all'inizio, o non avesse ieri notato lo scambio sui social, è riferimento perché Mirta ha fatto un bellissimo post su LinkedIn ieri, ringraziando, celebrando gli zero infortuni nella sua realtà e ringraziando un po' chi la sta ispirando, citando anche noi un po' di Clubhouse, ma i ringraziamenti sono i nostri che vanno a lei per lo sforzo che fa lei come tutte le donne, di uomini della sicurezza che ogni giorno si prendono cura di proteggere, di tenere al sicuro le persone nelle loro organizzazioni all'interno e all'esterno dell'organizzazione, quindi un po' questo è quello che ci muove. Ed è il vero senso di BeSafe di questa community. Per Eleonora e Giada, voi che siete appena entrate nel nostro mondo, da poco che ci seguite e siamo grati di esserci, come vi arriva questa cosa? Quanto vi arriva? Giada, vuoi che inizi io? Vuoi partire tu? Come preferisci. Ok, perfetto. Se stai guidando inizierei io? No, ancora no. Se invece non stai guidando. E allora inizia tu così. Ok, ok. Allora, sicuramente l'impatto è stato forte, anche perché in qualche modo io sto cercando nel mio piccolo di trasmettere un concetto che riassuma appunto la cultura e quello che è il vero benessere sul posto di lavoro. Non perché io creda nel concetto di azienda uguale famiglia, anzi, credo che possa tendere a diventare anche un'idea disfunzionale perché associamo delle dinamiche familiari che non dovrebbero esistere al posto di lavoro. tanto più per il fatto di spendere praticamente metà se non di più della nostra giornata in un contesto che non ci faccia sovraccaricare di ulteriore stress, ansia rispetto a quella che magari è la situazione di partenza di una persona. Grazie alla pandemia mi sono resa conto che si è creata un po' di awareness tra le persone. Chiaramente le aziende stanno cercando di approcciarsi a questo concetto di benessere, di salute. Non dico che il passo sia subitaneo ma ci vorrà del tempo, però sono molto contenta perché è anche grazie a strumenti come Clubhouse che si possono trovare room interessanti in cui andare a parlare, approfondire, magari dare degli spunti a dei professionisti nel mio ambito da poter introdurre all'interno dell'azienda. Quindi sono molto contenta di avervi trovato intanto e ci tengo a ringraziarvi per avermi invitato qui questa mattina. Direi grazie a te e a voi per essere qui con noi e partecipare. Magari qualcuno non vi conosce, ragazze ogni tanto noi diamo questo scontato che ci si conosce un po' tutti, no? Magari ce lo diciamo anche già da qual è il contesto lavorativo in cui ti muovi, qual è la passione che ti spinge, che ne dici? Prima di metterti in macchina che da sempre effettivamente è meglio che non fai dopo. Assolutamente. Quello che mi spinge a fare il mio lavoro penso siano due fattori. Il primo sono le persone e il secondo è l'idea di poter portare una ventata di aria fresca, un po' di innovazione e portare anche il pensiero di quella che è la mia generazione nel contesto lavorativo. Quindi cercare di spingere le vecchie generazioni, diciamo così, e il vecchio concetto di azienda ad evolversi e ad avere un approccio più open dove vita privata e lavoro riescono ad essere in equilibrio. Non dico in perfetto equilibrio ma quasi. Ora sono People and Culture Manager e ho lavorato per aziende piccole e grandi, soprattutto startup. Ho collaborato molto con l'estero. Mi è capitato di gestire persone da 14 paesi nel mondo. In un contesto di società startup full remote mi è capitato di vedere determinate dinamiche che mi hanno spinta ancora di più a voler portare un cambiamento. È molto facile che le persone che non si vedano possono cadere nei tranelli dell'isolamento, del burnout, dello stress psicosomatico addirittura. Specie se non c'è un corretto utilizzo di quello che viene definito lo smart working. Quindi essere anche in grado di trovare il tempo per la persona e gestirla affinché non dedichi l'intera giornata solo ed esclusivamente a lavoro. Anche perché quando siamo da casa stare davanti al computer senza fare pause è un tranello in cui caschiamo, eh? Molto facilmente. Ma allora Giada, Giada Ronora, proviamo un attimo a ragionare insieme. Questo quello che ti dice effettivamente è corretto. Cioè noi in questo momento viviamo lontani dal mondo di lavoro e quindi tendiamo appunto ad isolarci e così via. Torniamo all'idea di azienda, famiglia. Sono fondamentalmente d'accordo con te che è disfunzionale pensare che il mondo del lavoro sia la tua famiglia. Però oggettivamente quanti di noi non hanno trovato amicizie, affetti? I quanti non trovano pagamento all'interno del mondo del lavoro? È così straniante cercare di rendere il mondo del lavoro un po' più vicino a quello della famiglia? A cercare di avere delle buone relazioni costruttive? Proviamo a ragionare insieme. Allora, secondo me non è mai tutto nero e non è mai tutto bianco. C'è sempre una bella gradiente di grigio. L'unica cosa su cui voglio porre l'accento è cercare sicuramente di sviluppare un rapporto sano all'interno dell'azienda con i dipendenti, con i colleghi. Questo significa che si possono sviluppare amicizie, assolutamente. Però stando attenti a non emulare delle situazioni in contesti familiari e traslarle sul lavoro. Cosa intendo? I colleghi sono colleghi, mamma e papà sono mamma e papà, il marito è il marito e via discorrendo. Quindi il modo corretto per approcciarsi a un contesto lavorativo è sicuramente pensare all'azienda come un team, come una squadra, come un luogo dove si incontrano persone, competenze, passione e dove l'obiettivo finale è quello di portare un risultato tutti assieme. E per farlo ovviamente ci sono delle dinamiche di spirito di squadra, addirittura di team leading, però tralasciando la parte emotiva e irrazionale che si può sviluppare in contesti familiari. Su questo non possiamo che essere d'accordo, le aziende nascono e prosperano perché in fondo c'è quella cosa che si chiama fatturato o la trimestrale nel caso delle aziende societarie con una spa. La famiglia invece è legata ad altri tipi di rapporti, tipicamente dall'amore tra i membri della famiglia stessa e poi ci sono i rapporti amicali, quindi è chiaro che le dinamiche alla base sono sostanzialmente molto diverse. Ma come creare questo benessere di cui però noi abbiamo bisogno? L'altra volta, la settimana scorsa, si parlava del fatto che però le persone si allontanano delle aziende perché non trovano soddisfazione in quello che fanno, hanno dei responsabili che non li fanno crescere o comunque diciamo l'ambiente è diventato tossico. Come arrivare a creare quello di cui noi vogliamo, un ambiente che sia stimolante, positivo, dove vi sia un team efficace, dove la permanenza in queste otto ore e in alcuni casi di più all'interno del mondo lavorativo, che sia proprio fisicamente l'azienda o all'esterno in smart working, diventi più profittevole in questo nuovo contesto in cui ci stiamo affacciando, di questa nuova normalità. Cosa potremmo insegnare o cosa potremmo condividere con i nostri membri della community? Giada, se mi permetti, ti interrompo un attimo, anche se è difficile parlare dopo aver ascoltato Giada, perché per quanto sia giovane, devo dire che ha un buon modo di esprimersi e quindi a volte mi trovo in difficoltà, ecco lo ammetto. Invece per rispondere a Francesco, parto dal presupposto che sono d'accordo con tutto quello che avete detto in questo momento. Per rispondere a te Francesco, riprenderei un po' il concetto di cultura aziendale. Cultura che ogni azienda di per sé ha un suo modello culturale, ma per quanto sia un termine astratto, viene utilizzato per definire tutti i fenomeni che avvengono all'interno dell'azienda o che possano influenzare il lavoro di ogni giorno, quindi i nostri contesti. Edgar Shane, che è appunto un professore di management della Sloan School del Massachusetts, cosa diceva? Diceva che la cultura è l'insieme di tutti quegli assunti fondamentali e condivisi che un gruppo sviluppa per fare che cosa? Per risolvere i problemi ad adattarsi e integrarsi all'interno di un contesto. Di conseguenza, rispondendo alla tua domanda, dobbiamo anche parlare di tutto quello che è il concetto di credenze, valori, la classica vision, mission, valori all'interno di un'azienda, quindi quei comportamenti scritti e non scritti che sostanzialmente vanno ad aiutare i dipendenti, come dicevo prima, non solo a conoscere il contesto, ma anche a risolvere i problemi all'interno di una società, a capire come muoversi. È una sorta di insegnamento, cioè la cultura è molto importante all'interno delle aziende perché ti permette di capire in che contesto stai andando, quali sono le persone che andrai a incontrare, qual è il mindset, quindi qual è il modo di pensare, qual è il modo di agire. È per questo che soprattutto negli ultimi due anni, con l'avvento della pandemia, si sta puntando tantissimo a rafforzare il concetto di cultura, visione, missione e valore all'interno di un'azienda. Soprattutto, come diceva prima Giada, lavorare da remoto, non confondiamolo con lo smart working, secondo me non ci siamo ancora arrivati alla netta differenza, perché lavorare da casa non è fare smart working. Ti consente in alcuni momenti sicuramente di trarre o avere benefici e dei vantaggi in termini di tempo, di risparmio di costi, però effettivamente non stacchi mai il cervello. Non lo stacchi mai. È vero Eleonora, è una bellissima riflessione perché è il tema, non quando è che c'è lo stacco. E oltretutto senza dimenticare poi che ci sono persone da casa, nella stessa realtà, e persone che invece da casa non possono lavorare e sono invece sempre in azienda, quindi poi si creano delle diversità all'interno dell'azienda. Mi piacerebbe sentire, se avete voglia, anche, ho invitato Sergio, ma anche quelli che ci stanno seguendo, che sono stati invitati a salire sul palco, a dire loro, se avete un pensiero, una riflessione da condividere con Eleonora, con Giada e con noi tutti, sentite, liberi, anzi ci piacerebbe molto, la cultura di un'azienda la fanno le persone, no? Quindi perché non confrontarci anche su questo? Eleonora, mi veniva in mente appunto, ti stavo dicendo, anche la differenza. Noi partiamo dal mondo sicurezza sul lavoro, ogni tanto io ho provato a trovarmi in fabbriche, dove 400 persone sono in fabbrica, in produzione, davanti alla macchina a produrre e 200 persone stanno da casa a gestire questi processi e non sono più lì, si crea una distanza, ci si deve occupare di entrambi in maniera completamente differente. Assolutamente, brevemente in modo da dare poi la parola a Sergio, ne parlavamo proprio l'altro giorno in azienda, io sono head of people, mi viene da dire people, head of HR, sono responsabile del personale di un'azienda informatica. Oggi parliamo di people, con Giada lo sottolineiamo sempre perché siamo persone, le persone al centro, la centricità, quello che dicevamo l'altra volta. E ne parlavo l'altro giorno in azienda proprio perché non siamo in produzione noi, ma abbiamo comunque delle persone on site che lavorano su dei presidi, dei nostri clienti, sempre in ambito informatico, c'è questa netta differenza tra chi lavora sempre dal cliente o in sede e chi invece può lavorare da remoto. Questa cosa anche a livello di culture, di cultura, quando si va a fare un'analisi dell'employee experience, quella che è l'esperienza dei dipendenti, emerge tantissimo. Non si può paragonare la stessa modalità di lavoro per le due figure e quindi anche qui il lavoro che viene fatto poi con l'azienda è quello di fare veramente un'analisi approfondita su chi sta in azienda, cosa prova, che sentimenti prova, chi invece vive da remoto e da lì poi secondo me con queste room apriremo tantissimi argomenti legati alla sicurezza e al modo di vivere in azienda. Questo è un po' in soldoni il pensiero di fare un'analisi che si è accurata per tutte le figure presenti ed è per quello che poi si parla di personas, quindi si vanno a analizzare i singoli soggetti, tra virgolette le singole figure aziendali, per poi fare un'analisi e creare fuori una bella employee experience. Che ne pensate ragazzi? Intanto è arrivato anche Andrea, salutiamo 3 SPD. Ciao Andre, benvenuto. Sergio, se hai voglia di dirci la tua, saluto Marco, Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Stavo ascoltando per non rischiare di essere off topic tutto qua. Ero silente per questo, ero un po' restito a salire solo per questa ragione, perché l'argomento che trattate diventa molto più vasto, non è solo la sicurezza, diciamo, in termini di salute, ma anche in sicurezza psicologica che sono legate, però diciamo che è un'esperienza un po' diversa dalla mia, ecco questo, quindi lo ascoltare per capire meglio. Io mi ricollegherei a quello che dice Sergio giustamente della sicurezza psicologica e sono convinta che non solo la figura nuda e cruda di HR, che è un termine che non mi piace come diceva Eleonora, perché risorso umano è molto, sembra quasi uno strumentalizzare le persone, però non è solo una questione di people manager, quella di diventare un facilitatore all'interno dell'azienda per le situazioni psicologiche, secondo me c'è una questione importante che forse è rimasta ancora un po' tabù, che è quella dell'educare il management in una situazione dove siamo stati riduci da una pandemia, c'è questa distinzione lavoro da remoto, lavoro telelavoro, smart working, dove ancora si fa tanta tanta confusione. Educare il management che cosa significa? Il ruolo del manager adesso non è puramente direttivo, ma spazia, diventa divergente verso tematiche più appunto delicate come quella della sicurezza psicologica, della stabilità psicologica, dell'emotività e del poter gestire vita privata e lavoro. Il manager che assegna task, il manager che scrive fuori dall'orario di lavoro non si sta comportando da facilitatore, ma anzi incrementa quello che poi è il fenomeno del cosiddetto burnout o addirittura la wave delle great resignation, che a me piace un po' definire come la presa di coscienza. Già, assolutamente d'accordo. La vostra presenza, la vostra contaminazione in questa chat che tipicamente nasce per il mondo HSE è palese. Da un po' tutti quanti noi continuiamo a pensare che il mondo della sicurezza deve evolvere, ma che in realtà c'è sempre stata una contaminazione tra coloro che seguono in personale, direi. L'HR spesso viene visto banalmente come quelli che fanno le buste e pagano, o quelli che fanno i corsi di formazione. Ma in realtà in questi due mondi hanno tanti punti di contatto. Io penso sempre che tra i vari strumenti che il mondo HSE utilizza, ad esempio il feedback, io personalmente ho in tutti gli stabilimenti dei progetti di behavior, base safety, dove effettivamente insegniamo ai manager a dare dei feedback positivi, di rinforzo, più che spostare l'attenzione sulle punizioni perché vedono dei comportamenti sbagliati. Quindi in realtà è da anni che c'è una grande contaminazione. In manager non è più, a mio avviso, anzi non sarebbe mai dovuto essere quello che dai task, ma doveva essere più un coach. Anche questa, diciamo, è una parola un po' abusata, ma è quella persona che guida i propri collaboratori per fare in modo che insieme si possano raggiungere risultati. Collaboratori che hanno età diverse, esperienze diverse, punti di vista diversi, competenze diverse. E' chiaro che bisogna crescere tutti quanti assieme perché solo così si riescono a raggiungere i migliori risultati. E quindi il manager per primo deve essere molto più vicino ad esempio appunto all'operatività. Una cosa molto banale che dico sempre, quando vengono organizzati i corsi di formazione, io vedo i lavoratori e non ci vedo mai i capi, come se i capi non avessero mai bisogno di formazione. E tutt'altro, io vedo sempre, sento questa necessità di essere presente ai corsi di formazione, proprio perché nel momento in cui i tuoi collaboratori sono formati, sono formati su argomenti di cui magari tu non conosci nulla. E se devi chiedere qualcosa ai tuoi collaboratori, cosa chiedi, visto che tu quella formazione non c'eri? Quindi, per chiudere il mio intervento, la logica dell'HSE e dell'HR in realtà è di una situazione fluida in cui tutti quanti noi appunto dobbiamo lavorare per aumentare il benessere delle persone. È un po' il titolo della giornata di oggi, no? La sicurezza inizia e finisce con le persone, ma direi il benessere inizia e finisce con le persone. Le organizzazioni lavorano con le risorse che hanno ed è chiaro che vi sono organizzazioni più o meno performanti, più o meno sicure, proprio in base alle persone che hanno dentro. Assolutamente d'accordo, Francesco. Assolutamente d'accordo. Forse c'era anche Francesco. E non a caso appunto. Io ho visto aprire un microfono. Non so se eri... Ciao Francesco, benvenuto. Ciao. Io volevo supportare quello che ha appena detto Francesco. Nel senso, io ho lavorato per 23 anni su un'azienda che faceva esattamente questo. Il manager, il fondatore, era il primo che ti invogliava. Era il mentor, era il facilitatore, ma era anche il cazziatore. Lui voleva che la sua azienda, eravamo un'azienda di 60 persone, fosse non come una famiglia, ma lavorassi in armonia. Perché se c'era armonia si lavorava bene. Era quello che aiutava a prevenire i bisogni. Quindi nella nostra storia industriale ci sono queste cose. E sono gli imprenditori nati nel dopoguerra che venivano da situazioni un po' particolari. Secondo me è la terra di mezzo che si è persa. E si è persa una certa capacità di governare le persone. Ma più che governare, secondo me, di supportare. Quindi proprio con questa attività. Negli ultimi 7-8 anni ho cambiato aziende e questa cosa si è completamente persa. Quindi è vero che così si lavora bene. Perché si lavora proprio con le persone che hanno voglia. Ci si confronta. C'è un problema e ci si aiuta. C'è una persona che non va nella direzione giusta. si fa quello che oggi dice la BBS e si supporta dicendogli guarda che non stai lavorando bene. Quindi si può fare, si è fatto però ci vuole la volontà di tutti per fare questo. Il problema è che non si fa analisi del clima aziendale perché non si vuole sapere cosa le persone pensano di te. e quindi secondo me è questo che bisognerebbe iniziare a fare. Iniziare a fare un pochino più di autoanalisi. Essere più onesti, collaborativi. Però accettare anche di poter e voler cambiare. Non so se ho centrato proprio il focus di tutto ma questo è il mio piaceremo. Sì Francesco, anzi grazie dell'intervento. Siamo contenti di ascoltare anche voci nuove di esperienze come la tua. che ci ricordano che i cambiamenti è vero che si fanno piccoli passi è vero che si fanno gocce ma come la sicurezza il cambiamento non si fa da soli. Bisogna essere tutti insieme a farlo. E' un po' questo anche la nostra mission. C'è un po' quello di creare aiutare anche questa famiglia professionale a prendersi cura delle persone. Antonello, ho visto che avevi acceso un microfono non so se mi sono infiata prima te. Eccomi, eccomi. Sì no, ascoltavo Francesco e ha detto appunto il leader deve essere onesto deve essere anche più umano mi verrebbe da dire perché a volte ci si dimentica che si sta governando si sta gestendo delle persone quindi a volte questo purtroppo si dimentica passa in secondo piano diventa tutta un'amministrazione però ci si dimentica che dall'altra parte ci sono delle persone con dei sentimenti con delle problematiche delle persone proprio come noi e qui mi vengono a mente allora mi viene in mente tutto quello che abbiamo detto oggi quindi l'idea di l'azienda come una famiglia piuttosto che proprio il titolo della nostra room la sicurezza inizia e finisce con le persone e allora forse è questo che dobbiamo fare recuperare un po' questo lato umano della figura del leader anche nella sicurezza e sicuramente chi gestisce le people può sicuramente contaminarci in modo positivo Io volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che dicevamo la settimana scorsa sicuramente l'umanizzare è uno dei dei concerti chiave ma poi soprattutto noi parlavamo di comunicazione top down e bottom up sicurezza non si intende solo la sicurezza nel mero senso del termine ma anche far sentire sicure le persone all'interno dell'azienda e qui mi ricollego un po' a quello che stavamo dicendo a quello che che appena detto adesso non mi ricordo chi abbia parlato perdonatemi ma guardo a scatti il telefono cioè sicurezza è far sentire i propri dipendenti al sicuro liberi di comunicare liberi di esprimere qualsiasi tipo di criticità se così la vogliamo chiamare c'è l'ottica anche di responsabilizzazione la comunicazione interna noi parliamo tanto di comunicazione comunicare vuol dire ascoltare tutti e di conseguenza anche il modello il classico cascading cioè il modello a cascata deve essere gestito in modo diverso e quindi con la comunicazione top down e bottom up non solo si va diciamo nella direzione dall'alto verso il basso ma dal basso verso l'alto e quindi livelli gerarchicamente simili vari ruoli diversi riescono a comunicare e da diciamo il basso si riesce a far emergere tutte quelle che sono le problematiche cioè se io ho un dipendente che la mattina mi viene in ufficio e non è sorridente non sta bene vedo che fa proprio 9-18 con il cartellino timbrato per l'amor di Dio prima parlavamo di non essere invadenti anche per quello che è la vita delle persone quindi extra lavoro ma è anche vero che se tu in un contesto lavorativo stai bene l'orologio neanche lo guardi se c'è una problematica in un team quella cosa non è di tua competenza se hai voglia di creare dei team che siano e poi magari vi faccio un esempio della realtà in cui lavoro dei team che siano allineati siano collaborativi queste cose non emergono proprio perché ognuno fa e aiuta anche il prossimo non ci si limita solo a questa è la mia area e io arrivo fino a qua poi per il resto tanto c'è l'altro team piccolo esempio poi vi lascio la parola a chi volesse parlare nella nostra società forse lo dicevo l'altra volta noi lavoriamo ovviamente in ufficio risorse umane per appunto pratiche tutte anche di sensibilità dei dati a un ufficio a sé stante ma quello che è il mio concetto io adoro lavorare in open space questo perché perché mi permette di conoscere le people che ci sono all'interno dell'azienda mi permette di ascoltare per quanto stia lavorando su magari i miei progetti riesco anche a capire il mood che c'è all'interno dell'azienda come si sentono le persone e quindi l'azienda cosa ha deciso di fare ovviamente adesso in periodo pandemico prenotiamo le postazioni i posti sono ridotti e quant'altro e sono state fatte tutte le comunicazioni però una cosa importante è far sì che i team si sentano liberi passatemi il termine magari scorretto magari l'errore scorretto però un po' come a scuola no? vado la mattina in classe e decido chi è il mio compagno di banco non necessariamente la produzione deve lavorare con la produzione il sales deve lavorare con il sales il sales può decidere che quel giorno lavora col marketing perché quel giorno ha bisogno di una presentazione per portare a casa un cliente e di conseguenza la comunicazione rende più fluidi i processi e anticipa certe azioni di conseguenza la cosa importante da fare è anche questo creare omogeneità all'interno dell'azienda e non standardizzare questo processo questo meccanismo questa azione che abbiamo inserito all'interno dell'azienda con noi sta funzionando tanto che poi si fanno i pranzi insieme non ci sono delle verticalità in senso stretto cioè del tipo no questa cosa è competenza solo del non lo so di chi si occupa dell'ufficio gare e questa cosa invece di competenza del marketing o del sales o dell'IT cioè quante volte io ho bisogno degli sviluppatori ho proprio bisogno dell'ufficio IT banalmente per customizzare un CRM all'interno dell'azienda io devo comunicare con quei colleghi e non non posso aspettare che sia solo quel momento di riunione per parlare con loro anche perché non conoscerei abbastanza a fondo il mio collega la persona con cui sto lavorando sia esso un collega o sia un manager cioè i manager per quanto adesso quella è un po' la visione verso cui stiamo andando almeno noi i manager anche essere visibili all'interno dell'azienda danno un concetto anche di cultura molto diverso rispetto a prima quando il direttore si chiudeva nella sua sala cioè la porta il concetto di porta aperta per l'amor di Dio con tutto il rispetto non è che entro ciao ho bisogno di questa cosa però il concetto di porta aperta io mi rendo al servizio di se hai bisogno io sono qui non creo una barriera questo è anche il concetto di cultura di sentirsi liberi di sicurezza come diceva prima Giada non solo mentale ma anche proprio fisica psicologica di mi sento accolta non so cosa ne pensate voi sono sono quei comportamenti taciti o espliciti o meno espliciti che dimostrano qual è il vero comportamento all'interno dell'azienda il comportamento abbiamo detto no Veronica che il comportamento è fatto di azioni no di 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 non è una cosa astratta e direi che è quasi safe think safe e poi be safe bravissima la stiamo osservendo quasi quasi da Andrea mi vorrebbe da dire una persona che di cultura ne ha fatto il pane quotidiano cosa le dice Andrea Andrea tra di noi non so se Giada e Eleonora e Eleonora conoscono Andrea Andrea se ci sei ci verrebbe voglia di dirti presentati anche ciao 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 sì ci sono 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 un perroviere quindi ho vissuto tanti anni dentro un'azienda che rappresenta un po' l'ho spaccato di tutta l'Italia 27.000 persone dentro un gruppo di 70.000 e stavo prendendo appunti per quello che ero in silenzio e io nella mia esperienza vorrei semplicemente riportarmi un attimo al titolo la sicurezza inizia e finisce con le persone molto spesso l'ho vissuta perché ho visto RSPP iniziare a finire con se stessi cioè guardare solamente le proprie responsabilità e a mettersi a posto ho visto manager iniziare a finire con se stessi cioè delimitare uno scudo di protezione verso le proprie le proprie le proprie responsabilità e quindi il titolo mi sembra un'arma a doppio taglio cioè la sicurezza inizia e finisce con le persone sì però ci sono delle barriere da abbattere in modo tale che inizi con le persone però non finisca quindi stabilire tutte quelle reti di relazione che avete detto voi la cultura italiana ha sofferto di approcci troppo giurisprudenziali e di approcci troppo tecnici e quindi ha travisato e ha creato una cultura molto molto tecnica dove le persone poi hanno un po' finito la più grande problematica che io vedo all'orizzonte la vedo nella mia azienda è che il tempo con cui una cultura cambia è troppo grande è troppo tanto rispetto al tempo con cui vorremmo che una cultura cambiasse e quindi dobbiamo cercare in modo di accelerare i cambiamenti perché adesso la difficoltà non è più tanto cambiare è cambiare in tempi adeguati abbiamo un management che vuole cambiare subito e quindi un'ulteriore sfida per chi fa consulenza e per chi fa questo mestiere ma assolutamente d'accordo diciamo che in realtà i tempi che noi vorremmo e qui mi rallaccio i famosi 105 morti di cui parlavo all'inizio i tempi che noi vorremmo sono in realtà a tempo zero perché certe situazioni da mondo troglodita non vorremmo neanche più averle ma come prima si parlava di smart working di cultura ma come avvicinare ad esempio i due mondi che tendenzialmente sono distanti cioè il mondo di chi è operativo sul campo e di chi invece lavora più nel mondo impiegatizio Andrea che esperienza ci porti da questo punto di vista la mia idea che ho da un po' di anni che continuo a consolidare non cambia è che bisogna assolutamente ridefinire quella che è la narrazione della sicurezza bisogna fare della sicurezza una narrazione positiva cioè di una di un qualcosa che si raggiunge perché è positivo non che si vuole allontanare perché è negativo ridefinire la narrazione vuol dire riempirsi di esempi positivi a tutti i livelli dal lavoratore al manager alla valorizzazione della leadership dei preposti fare il preposto non è un obbligo legislativo è un'opportunità di realizzazione umana e personale se lo comunichi in un modo piuttosto che in un altro ne fai una narrazione diversa e quindi dal punto di vista personale si vive in su questo sono assolutamente d'accordo io che vivo il mondo ad esempio anche della sostenibilità vedo che è più facile e più positivo parlare di sostenibilità perché di fatto ci si sente tutti i partecipi di un grande cambiamento che aiuta il mondo ad essere migliore meno effetto serra meno inquinamento meno plastiche meno cose brutte però perché per parlare di sostenibilità diciamo un po' più facile ci si sente un po' più partecipi diciamo ci si sente un po' più empatici mentre per parla di sicurezza si pensa sempre al menagramo al portatore di sfortuna e così via ma io qua Francesco visto che oggi non ho lanciato nessuna provocazione la vorrei lanciare così negli ultimi minuti stavamo aspettando solo secondo me la sicurezza oggi ha bisogno di una mentalità alla Netflix cioè una narrazione alla Netflix dove i protagonisti della sicurezza sono protagonisti che vivono le loro tensioni i loro problemi e vivono le loro trasformazioni quindi una una valorizzazione dei nostri ruoli guardate in tutti i morti che noi in tutta la comunicazione mediatica mai si è parlato di noi ci hanno proprio completamente sempre bypassato dal datore di lavoro al lavoratore e noi non non siamo entrati nella narrazione e questo è un male dobbiamo dobbiamo affermare questo sono assolutamente d'accordo la seconda cosa è che la narrazione alla Netflix permettetemi questa perché è proprio scientifico che loro lo fanno loro presentano anche il personaggio negativo cioè colui il quale non fa quello che fa il controtema lo chiamano e vanno ad indagarlo cioè noi dovremmo indagare un doppio filone narrativo quello della persona positiva quindi che inizia a occuparsi delle persone e a fare sicurezza in un certo modo e andare a cercare di capire il perché quelli che non hanno fatto e quelli che non fanno il benessere delle persone lo fanno in modo tale da cercare di smontare cioè praticamente di martellare il muro da tutte e due le parti non possiamo martellare sempre personalmente da una parte sola Andrea abbiamo spazio per l'ingegner Bianchi qui direi abbiamo spazio per nuovi podcast allora l'ingegner Bianchi vorrebbe adeguarsi al tema legislativo e vorrebbe trovare un compagno per fare un podcast a due voci cioè voi tutti forse non sapete che Andrea ha un bellissimo podcast dedicato all'ingegner Bianchi e quindi ascoltiamo quando possiamo le storie vorrei vorrei trovare un partner Francesco potremmo sentirsi potrebbe potresti essere anche tu o Veronica vorrei fare una anziché il whatsapp la telefonata tra il preposto e l'RSPC va bene la cosa sembra divertente aiuto aiuto allora ci stiamo avvicinando alla chiusura vero Veronica io voglio fare un ultimo inciso e poi lasciamo la parola di chiusura quello che tu dici tu Andrea ma anche Eleonora Giada è corretto allora io torno un po' alla contaminazione HS e HR quando ha tuo processo di feedback di gestione del feedback io ho i proposti che mi dicono mi sento meglio mi sento meglio nel mio ruolo mi sento apprezzato dei miei collaboratori sono passato dal controllore da quello che deve quasi quasi guardare il biglietto cioè il DPI se hai caschetto se hai qualcosa lì a quella persona che viene ascoltata e vedo che quando io faccio apprezzamenti per quello che fanno i miei collaboratori anziché quindi cascarmi l'occhio su quello che non fanno vedo da parte loro un maggior coinvolgimento e io mi sento più apprezzato questo è quello che dico sempre è un po' la droga della leadership quando tu diventi un bravo leader non smetti più di esserlo ragazzi ultimo minuto Eleonora stavi per dire qualcosa scusami figurati noi abbiamo sempre tanti argomenti poi tiriamo fuori un sacco di temi molto brevemente quello che sta dicendo Francesco io sono alla mia seconda esperienza di trasformazione digitale di azienda io mi occupo proprio di questo oltre alla gestione dipendente di tutto quello che c'è intorno la cosa importante è quando le persone prendono consapevolezza quando prendono consapevolezza del fatto che una trasformazione digitale nuovi processi nuove procedure all'interno dell'azienda non vanno a snaturare quello che è il compito di ogni persona di ogni ingranaggio della catena perché alla fine questo siamo siamo un ingranaggio per poi creare questa grande macchina il concetto appunto della digital transformation il concetto della digital transformation magari lo possiamo affrontare in un'altra room cambia proprio quello che è il concetto che il lavoratore ha rispetto alla sua mansione rispetto alle modalità di agire rispetto a tutti quei processi produttivi dell'azienda cioè quante volte vi è capitato di sentire dire no abbiamo sempre fatto così e si arresti al cambiamento e quello che diceva prima Francesco è importantissimo perché dal momento in cui si riesce a gestire bene le persone si riesce a essere un leader carismatico empatico un leader che comunque riesce a entrare in contatto veramente in empatia con le persone che ovviamente ci sono tante differenze di leadership però questo crea quella che viene chiamata la sicurezza la sicurezza comunicativa perché io so che dall'altra parte ho una persona che mi sta dando dei consigli e mi sta dando un valore aggiunto per poter crescere quindi questa cosa è molto importante cioè mi dispiace se parlo velocemente ma gli argomenti qui vengono fuori veramente spuntano ad ogni room guarda è molto importante capiamo bene perché ci siamo dati questa regola ferrea di fare il venerdì mattina dalle otto e un quarto alle nove un caffè insieme un viaggio in macchina insieme e ogni volta arriviamo alle nove Francesco e siamo qua che dobbiamo chiudere per andare avanti io vi ringrazio perché manteniamo questa promessa fatta vi ringrazio perché ancora maggior ragione oggi ci siamo dimostrati come il concetto di reciprocità con Mirta all'inizio che ci diceva grazie mi avete dato mi avete ispirato in realtà noi siamo quelli del dare senza prendere e prendere senza togliere e oggi ne abbiamo fatto tantissimo tesoro con Giada che ci ha raccontato delle people di quanto è importante avere quel concetto lì con Eleonora la sicurezza psicologica l'umanità la capacità di rispettare le distanze casa famiglia momenti personali e momenti lavorativi una differenza che esiste va stancita Francesco che ci ha aiutato con la visione della leadership e Andrea con questa cosa della narrazione alla Netflix che ci aiuti ad accelerare il tempo del cambiamento culturale abbiamo fatto un bellissimo viaggio insieme per cui io vi darei appuntamento di nuovo tutti venerdì prossimo su Clubhouse 8 e un quarto con le room di Be Safe pubblichiamo link titoli e abstract sia su LinkedIn che sulle pagine Facebook e da fra poco saremo anche replicati su una delle pagine di Rock and Safe di Stefano Pancari che adesso ci ha lasciato ma che fa parte del nostro gruppo di Ispiratori vi auguro una buonissima settimana e vi lascio per i saluti finali augurandovi una fantastica reciprocità continua e felice ciao a tutti buona settimana grazie buona settimana a tutti ciao grazie a tutti buona settimana allora io buongiorno a tutti volevo salutare con una frase dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita ma più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli entrato in fabbrica per un progetto scuola lavoro quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società ieri il presidente della repubblica Sergio Mattarella diceva queste parole nel momento del nuovo insediamento credo che abbia lasciato un messaggio importante a ogni manager e a ogni datore di lavoro grazie buon weekend a tutti grazie Marco grazie Marco bomba grazie